Penultimo turno di andata nel Girone F di Serie D con i nerostellati attesi dalla trasferta sul campo dell'Olimpia agnonese. Per i Peligni sarà importante dare continuità ai pareggi rimediati negli ultimi due confronti interni consecutivi che non hanno smosso dal fondo della classifica la squadra di Mister Di Marzio. Attualmente i molisani delimitano la zona play-out alla luce di una quintultima posizione in coabitazione con il San Nicolò dopo la vittoria casalinga a spese della Iesina e il pari a reti bianche conquistato domenica scorsa sul campo del Monticelli. Per i nerostellati sarebbe importante un risultato utile così da non far crescere i punti di distacco dagli avversari di giornata che sul proprio campo stanno costruendo le loro fortune. L'agnonese ha infatti conquistato in casa ben 13 punti sui 15 finora totalizzati. La squadra molisana vanta inoltre la terza miglior difesa del Girone con 14 reti al passivo ed esaminando ancora il suo rendimento casalingo balza agli occhi il dato degli appena 4 gol incassati nelle 7 gare interne sin cui disputate. Soltanto il campo basso in casa ha subito meno reti degli Amaranto che davanti il pubblico amico hanno messo a segno 6 delle 9 reti realizzate fino a oggi. Lo stadio Civitelle è dunque il fortino e la squadra allenata da Pino Di Meo. Al di là di tutto però i nerostellati non possono soffermarsi più di tanto sui nomi e i numeri delle squadre avversarie perché oggi come ieri è chiaro che tutte le gare rappresentano impegni duri per i Peligni. Sul fronte mercato il tecnico Di Marzio è in attesa di altri due o tre innesti dopo la partenza dell'under di Rosa. Escludendo la porta dovrebbe arrivare un giocatore per reparto. Confortante la reazione e la verbo offensiva mostrata dai Peligni nel match con il San Nicolò ma la stessa gara ha comunque evidenziato una fragilità difensiva che dovrà quantomeno essere attenuata per correre davvero verso la salvezza. Il match di domani tra Agnonese e Nerostellati racchiude in sé anche la sfida tra i due centri più piccoli del Girone F. Da una parte Agnone, il paese delle campane con poco più di 5.000 abitanti e dall'altra Prato-La Peligna con una popolazione al di sotto delle 8.000 unità. A dirigere la gara sarà il signor Marco Baronti di Pistoia con fischio d'inizio alle ore 14.30.